Salve e benvenuti a questo ciclo di lezioni sulla progettazione e verifica degli elementi strutturali in calcestruzzo armato. In questa lezione illustreremo le fasi di comportamento di una sezione strutturale in relazione al livello dello stato tensionale dei materiali e alle condizioni di equilibrio interne della sezione. Per un maggiore approfondimento su l'argomento trattato si rimanda alle risorse indicate nella scheda che può essere visualizzata facendo clic sulla i che compare portando il cursore in alto a destra di questo video. La coesistenza tra calcestruzzo e barre di acciaio, la differenza dei legami costitutivi dei due materiali e la possibilità di semplificazione di questi in relazione al livello tensionale delle fibre più sollecitate della sezione, consente di individuare due tipi di comportamenti meccanici della sezione. Quando il livello delle tensioni nel calcestruzzo è sufficientemente basso rispetto alla resistenza ultima, come nel caso degli stati limite di esercizio, la sezione può essere studiata con sufficiente approssimazione assumendo un comportamento di tipo elastico lineare dei materiali. Quando invece il livello tensionale cresce sensibilmente avvicinandosi o raggiungendo i livelli ultimi sopportabili dai materiali, si deve far riferimento ai legami costitutivi non lineari di tipo elastoplastici del calcestruzzo e dell'acciaio. La scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo fa sì che anche con bassi livelli di sollecitazione flessionale la parte tesa delle sezioni si fessuri e la trasmissione degli sforzi di trazione deve essere affidata esclusivamente alle barre di armatura. Ricapitolando quindi, in una sezione in calcestruzzo armato possiamo individuare tre fasi di comportamento. Una fase elastica in cui la sezione è interamente reagente e non fessurata nella zona tesa. Una fase ancora elastica ma in cui la parte sollecitata attrazione della sezione è fessurata. Infine una fase plastica della sezione che si estende fino alla resistenza ultima e quindi alla rottura. Cominciamo con il modellare il comportamento nella prima fase. In questa fase il livello tensionale è sufficientemente basso da poter approssimare il comportamento dei materiali con un legame di tipo elastico lineare. Il livello della tensione di trazione del calcestruzzo è inferiore a quello della resistenza. Il calcestruzzo risulta quindi non fessurato. La sezione di calcestruzzo è interamente reagente ed è ulteriormente rinforzata dalla presenza delle barre di acciario. Per il principio di conservazione delle sezioni piane il diagramma delle deformazioni delle fibre della sezione risulta lineare. Avendo adottato legami costitutivo di tipo lineare le tensioni del materiale sono in ogni punto proporzionali alla deformazione e quindi anche il diagramma delle tensioni è lineare. Sia la tensione di una fibra di calcestruzzo sia quella di una barra si ottengono moltiplicando la deformazione per il relativo coefficiente di elasticità lineare. Per l'ipotesi di perfetta aderenza tra barra e calcestruzzo, nell'intorno di una barra sia il calcestruzzo che la barra avranno la stessa deformazione ε. Introducendo il coefficiente n dato dal rapporto tra modulo di elasticità dell'acciaio e modulo di elasticità del calcestruzzo, dall'uguaglianza della deformazione fornita dalle due relazioni tensionali, si ricava che la tensione della barra è uguale ad n volte la tensione del calcestruzzo al suo intorno. Il coefficiente n viene detto coefficiente di omogenizzazione perché la sua introduzione consente di estendere facilmente i risultati della scienza delle costruzioni ottenuti sui materiali elastici e omogeni, considerando la sezione di calcestruzzo armato come se fosse una sezione composta da un unico materiale omogeneo, il calcestruzzo. La sezione omogeneizzata, che deve essere utilizzata nello studio del comportamento tensionale delle sezioni in questa fase, è detta area di calcestruzzo ideale ed è data dalla somma dell'area di calcestruzzo dell'intera sezione più l'area delle barre di acciaio moltiplicata per il coefficiente di omogeneizzazione n. Il calcestruzzo è un materiale che, se sottoposto ad un carico persistente per lungo tempo, si deforma in maniera abbastanza evidente oltre la quota strettamente derivante dal comportamento elastico del materiale. Questo fenomeno, detto creep, tende ad esaurirsi nel tempo e, se il livello di tensione persistente che lo ha generato non è superiore allo 0,45 di fck, può essere modellato nei calcoli considerando semplicemente una riduzione del coefficiente elastico lineare del calcestruzzo. Per questo motivo, per lo studio dello stato tensionale a lungo termine delle sezioni, il coefficiente di omogeneizzazione che dal rapporto E con S fratto E con C dovrebbe assumere valori intorno a 6-7 è di solito assunto pari a 15. Passiamo alla seconda fase. Quando il livello della tensione di trazione nel calcestruzzo raggiunge la resistenza del materiale, questo si fessura. All'aumentare della sollecitazione, le fessure prodotte nella zona di trazione si estendono sempre verso l'alto. Il trasferimento degli sforzi di trazione tra una faccia e l'altra della fessura possono a questo punto avvenire solo attraverso le barre di armatura che cuciono la fessura. In questa fase, il livello tensionale del calcestruzzo compresso è ancora sufficientemente basso per adottare nel calcolo un legame costitutivo di tipo elastico lineare, ma la sezione reagente deve essere considerata come composta dal solo calcestruzzo compresso e dalle barre di acciaio. L'area di calcestruzzo ideale della sezione è quindi data dalla somma del solo calcestruzzo compresso e da quella delle barre di acciaio moltiplicata per il coefficiente di omogeneizzazione n, generalmente assunto pari a 15. Determinando con le consuete formule della scienza delle costruzioni la tensione del calcestruzzo all'altezza di una barra, la tensione nella barra si ricava moltiplicando semplicemente per n la tensione del calcestruzzo calcolata. Terza fase, la fase plastica. Quando il livello tensionale cresce e si avvicina alle tensioni di rottura per il calcestruzzo o si supera la tensione e l'isnervamento dell'acciaio, si devono prendere in considerazione i legami costitutivi di progetto che sono più aderenti al comportamento e sperimentale dei materiali. Questa fase di comportamento viene adottata per le verifiche allo stato limite ultimo delle sezioni, per cui è richiesto di determinare la sollecitazione resistente ultima della sezione. Per il calcestruzzo si adotta il legame parabola-rettangolo, mentre per l'acciaio adottiamo qui il legame elastico perfettamente plastico. La sezione reagente è costituita dal calcestruzzo compresso e dalle barre di acciaio, ma non sono più applicabili le formule della scienza delle costruzioni ricavate per sezioni costituiti da materiali elastici e omogenei. Per l'ipotesi di planarità delle deformazioni, il diagramma di deformazione ultimo della sezione risulta ancora di tipo lineare, ma le tensioni di ogni punto della sezione si ottengono ricavando i valori dai rispettivi legami costitutivi in relazione al valore della deformazione della fibra considerata. In questo stadio non si procede di solito al calcolo del livello tensionale in relazione ad una determinata sollecitazione esterna, ma si procede a calcolare il valore ultimo di sollecitazione che la sezione è in grado di sopportare, per poterlo poi confrontare con quello derivante da una combinazione di carico allo stato limite ultimo. L'esito del confronto tra sollecitazione ultima di progetto e resistenza ultima della sezione ci consente di effettuare le verifiche di resistenza sulle sezioni costituenti l'elemento strutturale. Nella fase plastica, tenendo conto del livello di deformazione ultima del calcestruzzo e del comportamento elastico perfettamente plastico dell'acciaio, si possono individuare diverse modalità di rottura della sezione in relazione alla posizione dell'asse neutro. L'asse neutro è quell'asse che individua sulla sezione le fibre a deformazione nulla e quindi a tensione nulla. Poiché la deformazione ultima dell'acciaio è assunta in progetto come infinita o comunque nella realtà è almeno di un ordine di grandezza più grande di quella del calcestruzzo, la rottura della sezione deve avvenire sempre per il raggiungimento della deformazione ultima del calcestruzzo al lembo compresso. Supponendo che il lato compresso della sezione sia quello superiore e posto il livello di deformazione del lembo superiore pari proprio alla deformazione ultima del calcestruzzo, e cioè pari allo 0,35%, si possono considerare posizioni dell'asse neutro crescenti verso l'altezza della sezione, individuando così alcune posizioni di comportamento limite nella sezione. Queste posizioni dell'asse neutro delimitano le cosiddette regioni di comportamento che brevemente qui si illustrano. Una prima regione di comportamento è individuata dalla posizione dell'asse neutro che comporta una deformazione dell'acciaio tesi pari alla deformazione di snervamento di progetto. Le posizioni dell'asse neutro comprese in questa regione, e cioè posizioni comprese tra il boldo superiore compresso e la posizione X limite, comportano che la capacità tensionale del calcestruzzo e delle barre di acciaio tesi siano sfruttate alla massima capacità. In particolare, il diagramma di tensione del calcestruzzo è interamente sviluppato e le barre tese risultano snervate e sollecitate alla massima tensione di progetto. La posizione X limite, che determina la delimitazione di questa regione di comportamento, si ottiene ponendo il livello di deformazione delle barre tese pari proprio alla deformazione di snervamento di progetto e considerando la similitudine tra i due triangoli individuati dal diagramma di deformazione della sezione. Seppure posizioni dell'asse neutro prossime alla posizione limite comportino maggiori livelli di resistenza della sezione, nella pratica progettuale è bene adottare posizioni dell'asse neutro a rottura molto più alte, così da ottenere una maggiore capacità deformativa in termini di rotazione della sezione e quindi un comportamento complessivo più duttile delle strutture come richiesta nelle costruzioni in zona sismica. Facendo scendere ancora più in basso la posizione dell'asse neutro, le barre tese presentano una deformazione inferiore a quella di snervamento di progetto, per cui la tensione delle barre si ottiene moltiplicando la relativa deformazione per il coefficiente di elasticità lineare. Il diagramma del calcestruzzo è invece ancora totalmente sviluppato. Un limite inferiore per questa regione si può individuare con la coincidenza della posizione dell'asse neutro con la posizione delle barre. In tale circostanza la deformazione delle barre e quindi la tensione risulta nulla. Il comportamento tipico di questa regione può estendersi anche fino alla posizione dell'asse neutro corrispondente con il bordo inferiore della sezione. In tale condizione limite la sezione risulta completamente reagente e compressa, e così anche le barre. Se lo spessore del copriferro è quello consueto, le barre inferiori risulteranno compresse, ma ancora in fase elastica. Facendo scendere ancora la posizione dell'asse neutro, la sezione è ancora tutta compressa, ma il diagramma di deformazione dovrà, all'aumentare della distanza dell'asse neutro, ruotare intorno alla posizione della deformazione allo 0,2% posta ad un'altezza di 3 settimi di H dal bordo superiore. In questa regione il diagramma di tensione del calcestruzzo non è interamente sviluppato, ottenendo valori della deformazione all'embo superiore inferiore allo 0,35% e via via decrescenti fino al valore limite dello 0,2%, cui corrisponderà una sollecitazione di compressione semplice. La tensione delle barre si ottiene dal legame costitutivo dell'acciaio, confrontando la deformazione con quella di snervamento. Se la deformazione delle barre è maggiore di quella di snervamento, la tensione corrispondente sarà pari a Fy con D. Se invece la deformazione è inferiore a quella di snervamento, la tensione si otterrà dalla legge lineare σ con S pari a E con S per ε. Come abbiamo visto, le diverse regioni di comportamento allo stato limite ultimo presentano, tranne l'ultima regione, un diagramma di tensione del calcestruzzo interamente sviluppato. In figura è rappresentata una sezione in calcestruzzo armato in cui, per semplicità espositiva, è disposta l'armatura esclusivamente nella zona tesa. Posto la massima deformazione del calcestruzzo all'embo compresso, pari a quella di rottura εCu pari a 0,35% e definita una posizione dell'asse neutro interna alla sezione, le forze interne che si sviluppano nella sezione sono NC, risultante delle tensioni agenti sul calcestruzzo compresso ed NS, la risultante dello sforzo di trazione assorbito dalle barre. La posizione dell'asse neutro è espressa dalla distanza X dall'embo compresso della sezione. Il diagramma di tensione del calcestruzzo è al fine al diagramma di legame costitutivo parabola-rettangolo, presentando un tratto parabolico nelle fibre la cui deformazione è inferiore allo 0,2% e un tratto lineare costante nelle fibre con deformazione compresa tra lo 0,2 e lo 0,35%. Ponendo pari a ψ il rapporto tra l'area effettiva del diagramma di tensione del calcestruzzo e quella di un ipotetico diagramma costante pari ad Fcd per X, la risultante dello sforzo di compressione assorbito dal calcestruzzo è data da ψ che moltiplica Fcd per la profondità X dell'asse neutro, ancora moltiplicato per la larghezza B della sezione. Il segno meno nella formula sta ad indicare che lo sforzo assiale è di compressione. Per il diagramma parabola-rettangolo di normativa, il coefficiente ψ assume il valore razionale diciassette ventunesini che può essere approssimato nei calcoli con il valore decimale 0,88095. Per definire la posizione della risultante dello sforzo di compressione Nc, si calcola la sua posizione rispetto al bordo compresso della sezione. La posizione dello sforzo Nc coincide per la sezione rettangolare con il baricentro del diagramma di tensione del calcestruzzo. La distanza è funzione della posizione dell'asse neutro X ed è espressa come il prodotto di λ per X, in cui il coefficiente λ assume il valore razionale 99,238. Questo valore può approssimarsi nei calcoli con il valore decimale 0,416. consideriamo ora il modello di una sezione di calcestruzzo armato con barre compresse e barre tese. Il diagramma di deformazione ultimo della sezione è definito dal valore ycu pari a 0,35% all'embo compresso e dalla posizione dell'asse neutro X. Gli sforzi di trazione Ns di compressione N'S assorbiti dalle barre si ottengono moltiplicando le tensioni delle barre per le rispettive aree. Le tensioni delle barre di armatura vengono ricavate dal legame costitutivo di progetto in relazione al livello di deformazione ε con S delle singole barre. La deformazione ε con S può calcolarsi dal diagramma di deformazione considerando la similitudine tra i due triangoli del diagramma individuati in zona compressa e in zona tesa. Calcolate le deformazioni delle barre. Queste vanno confrontate con la deformazione di snervamento di progetto. Se la deformazione delle barre è inferiore a quella di snervamento, la tensione sarà fornita dalla legge lineare e quindi moltiplicando la deformazione per i coefficienti di elasticità dell'acciaio. Se la deformazione è maggiore di quella di snervamento di progetto, allora la tensione delle barre sarà uguale a quella di snervamento. Bene, anche questa video lezione è giunta al termine. La trattazione dell'argomento è stata sicuramente sintetica, ma spero che almeno sia stata chiara. Se l'avete comunque apprezzata, potrete magari approfondire l'argomento calcestruzzo armato consultando il mio testo che vi suggerisco nelle slide e di cui troverete una breve recensione anche sul mio sito www.robertolapiello.it. Nelle seguenti lezioni affronteremo il progetto e la verifica delle sezioni per le diverse sollecitazioni semplici e composte. Arrivederci alla prossima lezione su calcestruzzo armato o ad altre lezioni presenti su questo canale.